Musica Nasce la commissione per il sostegno, la valorizzazione e la promozione delle aree interne. Dieci membri, sei di maggioranza, quattro di opposizione. Ma cosa si intende per aree interne della Toscana? Così lo spiega il neopresidente di commissione, Marco Nicolai. Aree interne principalmente, penso alla Garfagnala, alla Lunigiana, alla zona dell'Appennino, le colline metallifere, al Casentino, quindi sono state individuate tre aree interne dal punto di vista normativo. Sono in gran parte le zone montane e comunque più periferiche della nostra regione che hanno problemi dal punto di vista della tenuta dei servizi, ma soprattutto degli insediamenti produttivi. È finita nella montagna, non solo in Italia, ma in tutta Europa, la fase della industrializzazione in circa negli anni 90, questi territori sono alla ricerca di una nuova identità produttiva e in termini di servizi per me chiaramente fondamentale sarà la questione anche dell'assistenza sanitaria in queste aree e di un nuovo modello di assistenza sanitaria in questi territori. Quali allora le priorità? Il senso di questa commissione e anche la scelta che ha fatto il Consiglio regionale per la prima volta di fare una commissione apposita su questi temi è di dare a questi territori la centralità che meritano. Iniziamo oggi con questo insediamento, ma il senso e il programma di lavoro di questa commissione sarà quello di raccordare la voce dei comuni e di questi territori con l'istituzione regione e anche con il Governo nazionale perché noi abbiamo anche la programmazione avvenire dell'Unione Europea le sfide del Recovery Fund, le sfide anche del nuovo bilancio comunitario in cui dovremo fare in modo che anche nel nostro territorio regionale ovviamente alle aree interne venga data la rilevanza che meritano sono le zone che sono in tutte le province del territorio regionale sono una sfida per tutti e il senso di questa commissione sarà quello di creare raccordo e portare avanti idee e iniziative per dare a questi territori la dignità e il valore che meritano e mi pare anche coerente questa con tutta la campagna elettorale del Presidente Gianni. Vice Presidente è stata eletta Luciana Bartolini, su cosa lavorerete? Intanto sono contenta che sia stata istituita questa commissione di cui si parlava da tempo le priorità saranno azioni concrete da dover fare la priorità intanto sarà ascoltare territori, presumo e poi cercare di trovare proprio delle soluzioni che facciano un modo che le persone che ci sono non vadano via da questi territori e anzi che richiamino in qualche modo altre persone ad abitarci per tanti motivi, prima di tutto siccome si parla tanto per la maggior parte di aree montane o premontane, il dissesto del territorio, la cura del bosco quindi trovare delle attività che non siano industriali ovviamente che possano dare un aiuto a reddito alle persone che ci vivono. Tema caldo sarà sicuramente quello della sanità soprattutto nei territori montani. Sarà caldo perché giustamente per vivere in una zona bisogna che ci siano i servizi adeguati noi veniamo tutti e due dalla zona del Pistoiese io e il consigliere Nicolai quindi sappiamo le lotte che sono state fatte su a San Marcello per il discorso dell'ospedale. I servizi occorrono, che siano diversi non lo metto in dubbio, però occorrono. La nascita della Commissione la sarà deliberata nell'ultimo consiglio dello scorso anno. Maggioranze e opposizioni concordi sul nome di Presidente e Vicepresidente con l'astenzione però del Movimento 5 Stelle. Presidente, perché la nascita di questa Commissione? Perché noi abbiamo l'idea di una Toscana diffusa. Negli scorsi cinque anni ho avuto l'onore di presiedere la Commissione per il rilancio della costa della Toscana che ha messo in campo un progetto per il rilancio della costa che ora la Giunta sta finanziando e sviluppando. Vorrei e vorremmo che le aree interne che sono quelle con più difficoltà nella Toscana che viaggia a diverse velocità potessero svolgere lo stesso lavoro. Un lavoro fatto di ascolto, di confronto con gli enti locali, mondo economico, sociale, produttivo per arrivare a redigere un piano strategico anche di finanziamenti per le aree rurali. Non singoli interventi spot ma interventi anche con le risorse che arriveranno dall'Europa per aiutare a fare in modo che la Toscana ricluca quel gap. E' arrivato un no, un no forte, deciso alla possibilità che arrivino sui nostri territori in particolare nel sud della Toscana le scorie nucleari di media e bassa intensità. Lo continueremo a dire e a urlare con forza in Consiglio regionale e l'atto di oggi votato da tutti dà più forza al Presidente Gianni per potersi sedere ai tavoli nazionali e dire il no della Toscana a questa che è una scelta scellerata. E' un no unanime quello che arriva dal Consiglio regionale sui siti individuati in Toscana, campagnatico in provincia di Grosseto e Pienza Trequanda in provincia di Siena come luoghi di possibile stoccaggio di rifiuti italiani di media e bassa radioattività. L'atto sintetizza quattro distinte emozioni presentate dai gruppi consigliari e impegna la Giunta nella posizione di contrarietà e dal supporto agli enti locali interessati. Con forza il Consiglio regionale della Toscana ha dato mandato al proprio Governatore Eugenio Gianni di rappresentarci per dire che la Toscana non accetterà mai il deposito nazionale di scorie radioattive e nucleari. Per me personalmente una vittoria importante per essere stato il primo a denunciare tutto questo e ringrazio tutte le forze politiche che hanno voluto condividere un atto unitario approvato dal Consiglio regionale. Segnale forte di netta contrarietà, noi comprendiamo che quello sia un problema che va risolto ma non si può risolvere andando a compromettere, andando ad intaccare uno dei posti che sono più belli dal punto di vista paesaggistico, storico-naturalistico, ambientale. Quindi con delle penalizzazioni che ne deriverebbero anche dal punto di vista turistico e dal punto di vista economico. La Val d'Orcia, il Comune di Campagnatico, Pienza, Treguanda sono veramente delle perle della Toscana, dell'Italia e del mondo. hanno un valore che è riconosciuto dall'UNESCO, pensiamo alla Val d'Orcia, hanno veramente un paesaggio ed un valore storico-culturale enorme. Quindi noi pensiamo che questa previsione vada contrastata e il Consiglio impegna la Giunta, che tra l'altro attraverso il Presidente si è già espressa mostrando contrarietà, a mettere in atto tutte le azioni per poter contrastare il concretizzarsi di questa previsione. E anche a mettere a disposizione dei comuni, che sono piccoli comuni, tutti quei supporti di carattere tecnico-giuridico che dovessero essere necessari. Dei residui nucleari, che non ci dimentichiamo, già esistono sul nostro territorio. Non è che questi residui nucleari arrivano da Marte. Questi residui nucleari esistono e li abbiamo in casa. Dobbiamo soltanto metterli da qualche parte e dover stoccarli per 30 anni. Detto questo, che è il problema reale su cui le istituzioni dovrebbero essere chiamate ad esprimersi, poi resta la battaglia perché nei siti individuati dalla SOGIN arrivano due siti che sono uno un patrimonio mondiale dell'UNESCO l'altro una delle zone naturali più belle della Toscana è ovvio che sia inaccettabile di poter utilizzare queste nostre risorse bellissime come deposito di scorie nucleari. Ma non basta una risoluzione che oggi abbiamo votato all'unanimità a tutto il Consiglio regionale e ne siamo ben felici. Non basta questo. Il tema è un tema di attualità enorme è un tema che dobbiamo affrontare, come dicevo prima, senza il filtro della demagogia perché queste scorie, se non vanno in Val d'Orcia, se non vanno a Campagnatico e viva Dio che non vadano in Val d'Orcia e nel Campagnatico da qualche parte devono andare. E qualcuno dovrà assumersi anche la responsabilità di decidere dove e come dislocare queste scorie. Pensiamo che ora stia il Presidente Gianni andare giù con la voce di tutto il Consiglio regionale ad esprimere una contrarietà che sia forte, decisa e netta perché i nostri territori, soprattutto quelli in oggetto, vanno valorizzati, vanno supportati e non hanno assolutamente bisogno di vedersi sopraffare da decisioni prese a Roma e mai concordate o concertate con i territori stessi. Andare a costruire un deposito di scorie nucleari vorrebbe dire ammazzare qualunque possibilità di ripresa economica e di rilancio delle attività di quelle zone, fermo restando appunto poi la pericolosità. Capisco che il Governo si sia trovato a una decisione importante per evitare le infrazioni della Comunità Europea, però mi domando perché non sono state interpellate se non lo sono state, perché ancora non lo so, le regioni e soprattutto perché fra i vari parametri analizzati per definire quei siti di stoccaggio non sono state prese anche altre considerazioni come per esempio il pregio naturalistico e paesaggistico delle zone individuate. Questa è una cosa fondamentale per quanto mi riguarda e mi fa molto piacere che tutto il Consiglio regionale all'unanimità abbia approvato una mozione che dà sostegno al Presidente Gianni nel suo diniego all'autorizzazione. Un metodo che può dare una speranza rispetto ad un impegno collettivo, ne abbiamo parlato prima. Noi vogliamo che in Toscana ci sia da una parte la capacità di attrarre i talenti, l'eccellenza e dall'altro di sostenere il diritto allo studio per tante persone che fanno più fatica e hanno più difficoltà. Cinque diversi percorsi universitari interamente conclusi con la lode all'Università di Pisa e alla Scuola Superiore Sant'Anna dalla medicina all'ingegneria biomedica alle biotecnologie. E' Giulio De Angeli, 25 anni, originario di Padova e insignito delle gonfano d'argento del Consiglio regionale della Toscana. Io chiederò a Giulio, glielo ho chiesto in privato ma voglio farlo anche pubblicamente. Come sapete ho lanciato l'idea di mettere in piedi un luogo, un pensatoio dove disegnare la fotografia della Toscana del 2050 e vorrei che Giulio coordinasse dieci ragazze e dieci ragazzi e che mettesse insieme in questo gruppo i dieci ragazze e ragazzi per disegnare quella che sarà la Toscana del 2050. Come è nata la scelta della Toscana come luogo di studi? Io ho sempre sognato di dedicarmi alla ricerca e per me il Sant'Anna rappresenta la culla dei medici ricercatori che era esattamente quello che volevo fare nella vita. e quindi ho sempre sognato di entrare in questo Ateneo prestigioso e poi questo sogno si è avverato e Pisa mi ha dato tantissimo e soprattutto ha impresso in me l'importanza dell'approccio multidisciplinare. Io racconto sempre il mio tutor al mio primo anno mi diceva sempre Giulio per fare ricerca ad alto livello devi parlare la lingua non solo del medico ma anche del fisico, dell'ingegnere e del biologo e ho cercato di prenderlo alla lettera. Adesso il dottorato è a Cambridge ma non è una fuga all'estero? Precisamente io tengo moltissimo a questo punto io non voglio essere un cervello in fuga però bisogna chiarire una cosa la fuga di cervelli non sta nell'andare all'estero perché il mestiere del ricercatore è internazionale per sua natura è sbagliato l'inbreeding cioè rimanere sempre nello stesso posto però questo non significa che non esista esiste come la tragedia della fuga di cervelli e sta nel recidere i rapporti con l'Italia questo è sbagliatissimo e non voglio essere artefice di questa cosa La ricerca adesso sulle malattie neurodegenerative? Sì io adesso appunto mi dedicherò a tempo pieno finalmente alla ricerca con il mio dottorato di ricerca in neuroscienze cliniche e cercherò di applicare questo background così appunto ampio che ho ricevuto da Pisa che sarà veramente fondamentale per affrontare questo problema estremamente complesso con come si dice una fresh mind cioè cercando di partire con qualche idea originale si spera il problema delle neurodegenerazioni è estremamente vasto estremamente complesso sono malattie che sono molto numerose molto eterogenee però hanno un substrato fisiopatologico quindi un meccanismo che si somiglia molto e il problema è che questo meccanismo è estremamente sfuggente come dimostra il fatto che il nostro paradigma cioè l'opinione che abbiamo di questo meccanismo è cambiata numerose volte nel tempo e quindi bisogna proprio cercare di affrontarle con gli strumenti più all'avanguardia che abbiamo che non sono mai stati applicati in passato sono disponibili da poco i quali però presuppongono appunto un background veramente multidisciplinare grazie grazie grazie